Salta intervista Di Maio a che tempo che fa La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione Che tempo che fa, in programma questa sera su Rai 1, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. . La decisione del capo politico pentastellato, che oggi ha preso parte al Pirellone a Milano al confronto Lega 5S per trovare un accordo di governo, arriva in ore decisive per la trattativa. Il test definitivo dell'accordo di programma tra Lega e Movimento 5 Stelle è fatto. . Mancano solo i dettagli, ma lintesa è questione di ore. . 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